Musica Anche quest'anno il Movimento Giovanile Salesiano del Triveneto propone la Festa dei Giovani. Musica, spettacolo, mostre, stand, testimonianze, animazione sono alcuni dei principali ingredienti che permettono ai giovani di far emergere il desiderio di vita che li abita. Quest'anno come testimoni ci saranno Alessandro D'Avegna, giovane scrittore, e Suori Von, la madre generale delle figlie di Maria Usiliatrice. La Festa dei Giovani di quest'anno, che avrà come tema Io do la mia vita, si svolgerà il 4 marzo al Pala Arex di Iesolo. Musica, spettacolo, mostre, andate a tutti. Per ulteriori informazioni visita il sito donboscoland.it Musica, spettacolo, mostre, andate a tutti.